Se dobbiamo per chi magari ti sta conoscendo oggi definire chi è Vincent Martini, Vincent cosa diresti? È una persona dalla quale stare proprio lontani, direi questo. Io per onestà intellettuale, non mia ma altrui, non amo definirmi un musicista, però probabilmente un creativo musicale, diciamo così perché a me piace produrre, soprattutto campionare e scrivere, sì, anche testi come nel caso di questo pezzo che ha veramente poco testo e scritto da me. La team song del party ignorante, però per renderla un po' più grezzo io volevo cantarla io sta canzone, però ne l'hanno vietata proprio alla fine sta cosa e ci sono rimasto male. Ecco, ci siamo rimasti male. Allora se ascoltiamo la nostra canzone facciamo ascoltare questo singolo di Vincent. How can everybody know?